Immersa nel verde degli olivi, nel cuore della campagna oggianese, si erge silenziosa la chiesetta dei Santi Medici, centro rappresentativo della tradizione religiosa di Uggiano la Chiesa. L'edificio si staglia su un ampio sagrato di 400 metri quadri e sorge su una struttura più antica demolita nel 1956, già riscontrabile storicamente agli inizi del seicento, come attesta la visita pastorale dell'Arcivescovo Trantino de Morda. I lavori di ricostruzione della chiesa furono promossi dall'amministrazione comunale oggianese e dal Comitato Santi Medici, enti che acquisirono anche i terreni circostanti per poter meglio promuovere l'annuale fiera. Infatti ogni anno, in concomitanza con le celebrazioni religiose, il Parco dei Santi Medici ospita un'importante fiera dell'industria e dell'artigianato, che sul finire di settembre richiama migliaia di visitatori. Negli ultimi anni l'amministrazione comunale di Uggiano si è impegnata a potenziare i servizi di accoglienza e fruizione dell'intera area fieristica, pensando anche alle necessità delle famiglie e dei bambini allestendo un piccolo parco giochi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!